Raffaella, una bella rimonta dell'Italia ma non è bastata. Cosa ci è mancato oggi fino in fondo per portare a termine la rimonta? Non lo so, io credo che sia tanto merito loro che hanno attaccato, curato il difeso in maniera metropolare, bravi loro. Niente, non è bastato ma andiamo avanti a Baden. Per noi il primo posto nel girone, come continua questo mondiale secondo te? Beh, abbiamo raccolto un sacco di punti nel primo girone che ce li portiamo avanti e credo che sono tanti con fronte ad altre squadre che hanno accolto molto meno perciò è un vantaggio per noi. Poi nel nostro girone troveremo Cina che è quella più forte e cerchiamo di fare il nostro meglio. Tu come stai vivendo questo mondiale? Questa è la sua prima esperienza mondiale? È fantastico, mondiale in casa con 11.000 persone è fantastico. Spero che a Bari troveremo altre tante persone appassionate che ci sopravvano e che ne abbiamo la loro. Te darò un grande in bocca al lupo. Grazie.